Quattro ristoranti è il nuovo programma su Sky 1, tutti i mercoledì alle 21.10, dove finalmente ritorno per strada, vado in giro in mezzo alla gente, quattro ristoratori si sfidano tra di loro, sul servizio la location, il menu e il conto. Quindi vado in giro a vedere questo nostro paese, che è pieno di ristoratori, a raccontare la ristorazione un po' più da vicino, un po' più da addetto ai lavori. Quindi loro si sfidano tra di loro per vincere dei soldi da investire nella propria attività e daranno i voti, l'ultimo voto sarà il mio. Quindi è un programma che racconta storie, racconta storie di sacrifici pure, racconta storie di ristoratori che hanno 20 anni o storie di ristoratori che hanno 60 anni, che sono più adulti. Queste storie un po' si incrociano, sono i racconti di come hanno fatto questo mestiere, come ci sono arrivati, quale difficoltà ci sono. Racconto anche il paese, il posto, il luogo, le regioni d'Italia, le loro tradizioni. Quindi è un programma molto divertente, perché in chiave anche divertente, perché se no non sarei io. Ci sarà della bella musica, ovviamente, e quindi assolutamente rock, io sono il Robert Plant dei Fornelli. E quindi ci sarà da divertirsi, è un programma molto ricco, è una prima serata Sky 1, quindi sarà un'ora di programma e ci divertiremo tanto. Ma guarda, le critiche devono essere, io pure vengo criticato, devono essere costruttive, ok? Quindi se la critica è costruttiva, va bene, non è che è un consiglio, questo è un programma dove non andiamo a cercare del marcio, mettiamola così, andiamo invece ad osservare come lavorano. Se io ho un ristorante dove il coperto lo metto a 5 euro e c'ho il tovagliolo di carta, no, non ci siamo, non va bene. Quindi è un genere di questo, parlo in cucina, se la cappa è completamente unta, con tanto grasso così, ci tengo a dire al ristoratore che questo non è il modo di mantenere una cucina. No, quindi questi sono tutti parametri di valutazione che uno vuole fare. Un servizio buono deve essere un servizio educato, colto nella cucina, non oppressivo, un cameriere che conosce la materia prima e comunica con la cucina. Questo mi fa sì che dia un buon voto al servizio. Quindi sono dei piccoli aspetti della ristorazione italiana che noi andiamo ad indagare in questi quattro luoghi a cui poi diamo un tema. Quindi, per esempio, andiamo in Emilia Romagna a cercare il ristorante a conduzione familiare più forte che c'è. Quindi vogliamo dei ristoranti dove c'è la nonna a fare i tortellini, c'è la mamma alla cassa, ci sono i figli che fanno i camerieri, ci sono papà che sono in cucina. Quindi a conduzione familiare. Ogni volta cerchiamo un tema ben preciso nelle varie regioni d'Italia. Junior Masterchef inizia, subito dopo. Sì, io sono contentissimo perché i miei ragazzi devono superare. Adesso faremo uno spin-off, voglio proporre uno spin-off. Masterchef grandi contro Masterchef Junior, senza sapere chi fa i piatti, chi vincerà. Vediamo, vediamo. Sì, ma io Bruno e Lydia invece siamo contentissimi che Junior Masterchef a breve ricomincia perché è una grande macchina, un grande lavoro e i ragazzi sono eccezionali. Ciao amici di TVZoom, dal vostro amico chef Alessandro Borghese.